Ciao a tutti i goggi, ben riuscite la vostra, l'andrino di cron, tutto lo so, yokaiwatch, due spiritossi, oggi si apre l'avventura verso la mystery way, siamo nella casa deserta ok c'è anche chi l'ha chiamata casa di roccata non so perché ma qualcuno l'ha chiamata casa di roccata sinceramente a me non interessa il nome l'importante è è quello che c'è dentro ad ogni modo cambio un attimo yokai voglio mettere mastic nel team perché vorrei allenarlo e portarlo con me alla fine della fiera ovvero quando andrò a rompere il culetto a gattiva sì quindi mastic è un yokai troppo overpower c'è anche shogunyan overnyan nippon no no mastic dunque se metto mastic dove lo metto perché malonyan insomma è malonyan in gormiera mi serve per curarmi maestro mio c'è tanto spirito fa degli attacchi un po paurosi proprio allora vediamo un po voglio provare un attimo a togliere l'ucenio tanto mastic lo metto qua ok abbiamo dark nian qui davanti facciamo così mettiamo no dark nian tengo davanti perché nel caso mi fanno un energy max almeno lui si salva ok posso così perché se faccio l'energia se fanno un energy max improvviso uno yokai nemico e ho tre yokai che prendono danni da energy max davanti insomma la cosa è brutta e vediamo un po questo qui già sveglio resta nei paraggi per cui non preoccuparti vai pure avanti ebbene andiamo allora via del mistero oh quanto ho aspettato di poter affrontare questa via del mistero non ho idea di dove andare però a quanto pare la strada uh stemma del fumiglio la strada a un certo punto si interrompe quindi ma non posso neanche cascare si interrompe quindi niente dobbiamo cambiare percorso andiamo giù già sono stanco peccato potrei prendere un po di wow non ricordavo quello yokai un po di vigorium ma per il momento cerco di farla tranquilla cercando di godermi il paesaggio dunque la strada credo che alla fine sia sempre la stessa se dobbiamo scendere per forza oh vedete il mistero percorso 2 ah ok ah quello yokai non mi ha visto pensavo mi avesse visto invece invece no quindi siamo anche sul diciamo nel nella città val d'oro wow ah questo è lì vicino al dietro dovrebbe no non è dietro pensavo fosse vicino al come si chiama vicino a pesciventoli invece no wow ok piano piano facile facile non so dove sto andando ma credo sia giusta la strada sì infatti giù però no voglio esplorare un pochino cavolo non è che ci vengo tutti i giorni cioè nel prossimo episodio sicuramente ci verrò ma qui si può scendere ma oh mio dio aiuto apri tutto attacca solo uno ma ah è vero quando manda cappone yokai recupera un po di salute vabbè con mastic ancora devo farci un sacco di strada devo prenderci la confidenza e tutto quanto il resto ed infatti volevo andare qui perché c'era oh 10 biglietti della lotteria ho vinto praticamente tutti i premi della lotteria ma non non mi interessa quindi più di tanto trovarli ah rieccoci qua oh e mo sì che ci capiamo con fucsi non mi interessa ma qui non si può proprio andare peccato volevo vedere cosa c'era dall'altra parte ma a quanto pare non è possibile e noi chi ce ne frega continuiamo ad andare avanti dovrei trovare tuttos e dorossa prima o poi ma non so quando no ah lì si va avanti allora un attimo torno indietro cioè in un rpg esplorare è la cosa bella quindi è normale sapete che c'è vado di vigorium se no non finiamo più e si scende dove ci porterà ah ah ok è subito l'uscita andiamo ah non posso andare da questa parte bene andiamo dall'altra parte allora questa ci posso andare sì percorso 6 ah pensavo che potevo andarci c'è allora i posti visti no da un certo punto di vista ci sei già stato da un altro punto di vista non sai cosa siano io so cos'è questo posto ma visto da un'altra prospettiva sembra nuovo e invece non lo è oh vuoi teletrasportarti no proviamo che stiamo andando così bene prima o poi arriverà la dorossa no wow ok devo entrare qui qua qui e eccoci qua ui no di là c'era l'oggetto ah e vabbè la pare che si esce quindi no bello qui non ci sono mai stato credo credo di non esserci ancora venuto un yokai watch 2 perché sull'uno ci sono stato sicuramente l'uno l'ho spolpato proprio ah un incrocio niente qui non c'è ma questo qui è uno spettrale sembravano yokai spettrale sì è uno spettrale ma si possono reclutare gli spettrali in questo gioco io non ho capito ancora perché c'è chi dice di sì c'è chi dice di no incrocio via vai quindi questo è un incrocio senza uscita sto pensando la strada è piuttosto lunga non è che ogni volta che ci entriamo la via del mistero cambia boss potrebbe funzionare così non ne ho idea ok l'uscita è palesemente questa qui bene oh wow ci siamo allora non posso salvare vero? eh ti pareva? beh insomma se ho sconfitto terror dama penso che a parte Mastic al 61 però di Mastic non sono sicuro di volerlo tenere in squadra vediamo come va avanti con i livelli tu non te la ridi resta là stati zitto vediamo come va con questa lotta e poi quando sale di livello perché se sale di livello e ha tanto attacco allora è probabile che lo tengo doroso è la stessa cosa di tutt'osso stessi attacchi stessi oggetti insomma puntate al cuore ecco già dovrei fare con lo spillo ma ma troppo tardi gli alleati diventano deboli non ti preoccupare andrai benissimo perfetto il cuore è scoperto ragazzi la cosa da fare ora è semplice no? mannaggia al cuore sempre al cuore puntate fategli male questo fatto bene un po' troppo forte si un po' troppo forte l'ho detto eh che è questo il mio attacco maledizione e rompono le fiamme e rompono che termine è e rompono parla bene parla animale ok questo attacco dovrei stare tranquillo però mamma mia quanto è debole parato rosso aio ma a sto punto i corvi neanche mi preoccupano più di tanto se gli danno le monete per la slot kai tanto è deboluccio ma fermati l'ingormiera vieni qui mastic mastic a te l'onore di un attacco anche oh mastic l'onore è tutto tuo bene semplicissima moneta moneta misteriosa wow quindi tutto rosso droppa sta roba droppa wow da usare subito moneta misteriosa esclusiva per la slot kai usiamola gli spettrali escono dimmi di si dimmi di si ah no bambola di ferro acceso ma non ho nient'altro dunque a quanto pare doros è l'unico boss che c'è nella mystery way però una volta al giorno ti dà la moneta misteriosa da usare appunto con quella slot kai particolare però ad ogni modo se si entra nella mystery way quando si è intorno al livello 25-30 insomma ti dà un allenamento particolare l'io kai che non è da rifiutare è molto buono come allenamento se sei sotto il livello 40 comunque sia kuge per questo video di oggi è tutto spero vi sia piaciuto in descrizione come sempre trovate i link per facebook e twitter e se ancora non siete iscritti al canale iscrivetevi e noi ci vediamo in un prossimo video bye bye aì Grazie.